Un inedito centenario abruzzese, storia di un eroe del suo ritratto e il titolo del convegno promosso dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, guidato dal colonnello Vincenzo Grisorio e patrocinato dall'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, che vedrà la presentazione e l'esposizione al pubblico di un dipinto inedito, pastello acquerellato su carta, realizzato nel 1919 dall'abruzzese Francesco Patella, artista di chiara fama nazionale, che espose nell'arco della sua vita in biennale mostre di profilo nazionale ed internazionale insieme a personalità quali Basilio e Tommaso Cascella, Nicola Dantino, Guido Costanzo e Francesco Paolo Michetti. L'opera è dedicata all'eroe della Prima Guerra Mondiale, il sottotenente Saul Angelini, originario di Mosciano Sant'Angelo come Patella, al quale è intitolata la caserma della sede storica del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Il titolo del convegno è il medesimo del concorso che ha visto protagonisti gli studenti del liceo artistico musicale coreutico Misticoni Bellisario di Pescara, i cui vincitori saranno premiati nel corso della cerimonia in programma dalle ore 9.30 alle 12 di venerdì 12 aprile al Museo Vittoria Colonna di Pescara. Al convegno parteciperanno le massime autorità civili, militari e regionali, rappresentanti della soprintendenza all'archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, dell'Associazione Nazionale dei Finanzieri d'Italia e del Centro Studi Storici e Beni Museali, quartier generale della Guardia di Finanza di Roma. Il comandante Grisorio ha spiegato, presentando la manifestazione alla stampa insieme alla coordinatrice del progetto Greta Massimi, alla docente del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali della D'Annunzio, Maria Cristina Ricciardi, che è anche il critico d'arte che ha autenticato l'opera del maestro Patella, alla responsabile del bando di concorso scolastico del MIBE, Daniela Di Giampaolo e al presidente della sezione pescarese dell'Anfi, Gregorio Totaro, che oltre a rendere omaggio a due personaggi abruzzesi, la Guardia di Finanza con questa iniziativa vuole esprimere anche la sua valenza sociale. Abbiamo compreso, grazie al sostegno delle istituzioni, che si tratta di un'opera davvero di rilievo. Quindi l'idea è stata questa, rimettere a disposizione del mondo accademico e del mondo artistico la conoscenza di quest'opera, che è inedita e centenaria ed è abruzzese, che è abruzzese l'autore ed è abruzzese il soggetto ritratto. Ed è dedicato ad un nostro grande eroe, all'epoca reggia guardia di finanza, morto nella prima guerra mondiale in maniera eroica, medaglia d'argento al valor militare alla memoria.